Ehi, come hai fatto a trovarmi? Sì in Instagram, belle foto comunque. Oh, grazie. Stai bene? Sono stata così ingenua, tutto il giorno ho cercato un posto dove poter vedere una stupida pioggia di meteore. E tutto ciò che ottengo invece è questo. Sì, lo smog è terribile. Lo sai, tuo padre è davvero preoccupato per te. Preoccupato? Per questo ha mandato te. Troppo occupato a mantenere la sua promessa e troppo occupato per cercarmi. Preferisce passare il tempo a urlare a mia madre. Ma perché la odia più del bene che prova per me? A volte, a volte non è così semplice. Questi casi si fanno difficili. E tutti hanno dei problemi. Soprattutto i padri. E a volte commettono errori. Beh, quasi sempre. Ma non significa che non ci tengano. Se ci tiene dov'è adesso? È da qualche parte laggiù. Lui è qui. E ti sta cercando. Voglio dire, cerca di dare un po' di tregua a tuo padre. Forse non farà sempre le cose giuste, ma... Ci prova. Ed è più importante di quanto credi. Pronta ad andare? Sì. Sì. Grazie a tutti